Hanno vinto, ho il piacere di presentarvi Tananai, che ci parla da uno meraviglioso sfondo fucsia, con scritto dietro lo stesso occasionale, c'è già un programma, Tananai, che si chiama Alberto Cotta Ramusino, milanese, classe 1995. Sì, hai detto tutto giusto, esatto. Ecco, innanzitutto Tananai cosa vuol dire in dialetto? Tananai è come mi chiamava mio nonno, vuol dire piccola peste, o urdetta, mettiamola così. Sesso occasionale, baby, ritorna da me, metti via quella pistola, baby, ma dai, cosa c'è? Quell'altra non mi è mai piaciuta, tranquilli noi, tranquilli mai, tranquilla lei, non mi è mai piaciuta. Cos'è, un tradimento? Allora, in realtà sì, ma anche no, nel senso che quando ho scritto questa canzone in realtà non mi riferivo a un tradimento, è semplicemente un preferisco te a un'altra persona che ho incontrato, e sono disposto a lasciare da parte il sesso occasionale per dedicarmi a te, perché alla fine sono un ragazzo, cioè nel senso che fino a tre mesi fa ero a bere un vialecco a Milano con i miei amici e non avevo molto da offrire, non che adesso abbia chissà che cosa. Però la monogamia comunque è qualcosa di importante, di seria e sensata. Scusami, ma qua ci sono tutti, vorrei capire perché questa qua ci ha creato una coppia pericolosa. Bartoletti e Scanu, vorrei capire perché ridete? No, perché ci rende allegra questa presenza, veramente. Volevo sapere cosa simboleggia il tatuaggio che ha fatto vedere Tananai sulla spalla? Insomma ci interessava questa... C'è un tatuaggio? Un tatuaggio sulla spalla, vero Tananai? T'ho beccato, eh? Cosa simboleggia? No, non lo facciamo spogliare però. Faccelo vedere, faccelo vedere. Faccelo vedere però. Eccolo, vedi? Ma quella è stata meglio la trovata quella scritta. Jessica vuole la scritta Sesso Occasionale. Ma perché la vuoi pure te a casa? Ma no, ma sta in camera... Cioè lui in camera sua sta così. Però non c'ha il microfono. Te le portate da casa. E ragazze si scoraggiano. Cioè tu entri, leggi sta cosa e io me ne vado. Ma che rispetto è? Cos'ha fatto il tatuaggio che fine ha fatto però? Non l'abbiamo più visto. Tananai, girati, facci vedere la spalla. Ah, niente. Sono dei dipinti di Scile che è un'espressione... Ero la San Negra. Egon Scile. Sì, sì, esatto. Ti sei tatuato Egon Scile? Ah, beh, beh. Cioè, grandissimo artista dei primi del Novecento, austriaco, grandissimo artista. Depressì, veramente molto deprimente. Non mi sembri un tempo depresso però. No, no, assolutamente. Anzi. Però rispecchiavo un po' il mio stato d'animo all'epoca, nel senso che proprio perché sono un ragazzo molto allegro... Per 95? All'epoca. Per essere un ragazzo che sta per esibirsi sul palco dell'Ariston lo vedo particolarmente rilassato. Meraviglia, bravo. Ma Tananai, è giovane o big? È del 95, stanno tutti dei big, Jessica. Non c'è più la dei giovani. Gigliola, dai, una parola di saggezza perché l'abbiamo messo troppo in mezzo questo ragazzo, non va bene. No, io se avessi avuto una pressione mediatica come quella che hanno questi ragazzi prima del festival, durante il festival, sarei morta, non avrei retto. Cioè, adesso, anche prima qualcuno l'ha detto, no? Cioè, sono stanca morta. Donatella, rettore, ha detto sono stanca morta. E in effetti è difficile. Cioè, diventa veramente una prestazione incredibile. Perché? E io ero chiusa in... Io ero terrorizzata, chiusa in alveo, non vedevo nessuno, blindata, concentrata. Poi, naturalmente, dice, per fare che? Una canzonetta. Ma no, ma fossero solo canzonette. Che starà mai? Alberto Tananai, mi sembra di capire che ci farai ballare con consenso occasionale, giusto? Sì, 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 è quello lo scopo, cercare di buttare un po' di leggerezza. Ma aspetta. Tananai. Tananai. Allora, scrivi per favore sesso occasionale, aggiungi protetto, per favore, sotto. Chiamata la scritta, capito? Brava! Domenico, Domenico Marocchi. Domenico, 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 D